La situazione meteorologica sulla regione è caratterizzata dal presenso di un robusto anticiclone che si estende sull'Europa centrale e anche sul versante sud alpino, accompagnato da un moderato flusso di corretti nord orientali che rendono l'atmosfera piuttosto asciutta e anche mite. Ecco che la giornata di sabato vedrà c'è un genere sereno su tutta la regione, salvo qualche temporaneo e locale annuvolamento di poco conto, prevalentemente in velature ad alta quota. Le temperature saranno in lieve aumento, sia le minime, ancora però intorno ai 3-5 gradi sulla pianura, intorno agli 8-10 sulla costa, sia le massime che raggiungeranno e supereranno i 20 gradi in pianura, fermando sui 17 gradi circa lungo la costa. Soffierà ancora Borino il mattino su costa e zone orientali, poi in giornata prevaranno le brezze. Zero termico ancora a 3.000 metri sui monti, quindi in versione termica al mattino, con temperature anche localmente sotto lo zero nei fondovalle, appunto nelle ore notturno di prima mattina. Le massime poi saranno miti a tutte le quote. Domenica ci aspettiamo cielo da sereno o poco nuvoloso per qualche nuvolamento più probabile nella seconda parte della giornata in generale verso sera. Venti di brezza, temperature, in ulteriore aumento le minime fino ai 6-7 gradi della pianura, 10 e oltre sulla costa. Le massime 23-24 gradi in pianura, intorno ai 17, sempre stazionari sulla costa. Per quanto concerne la montagna, lo zero termico sarà sui 2.800 metri circa, ancora con inversioni di notte e mattino. Veloce peggioramento possibile lunedì, specialmente verso sera, con nuovo ricambio dell'aria e l'arrivo di corrente di bora, che però porterà precipitazioni solamente deboli o moderate. E dall'osservatorio Meta dell'ARPA, Arturo Pucillo vi saluta.